A seguito di una nota a firma della dottoressa Rossana Mangione, referente del servizio di igiene pubblica del comune di Licata, il sindaco Angelo Graci con propria ordinanza ha disposto l'inibizione all'uso potabile dell'acqua erogata in quanto dalle analisi effettuate è risultata con valori di torbidità elevati. In particolare con l'ordinanza del sindaco è stato vietato il temporaneo utilizzo dell'acqua in erogazione ai fini potabili ed eventualmente consigliato un utilizzo della stessa dopo preventiva bollitura fino a quando l'ente gestore non comunicherà l'esito favorevole dei controlli interni. Inoltre con il provvedimento il sindaco ha ordinato alla Girgentiacque quale ente gestore della rete idrica cittadina di riferire all'ente all'ufficio igiene pubblica del distretto di Licata tutti i provvedimenti adottati e i controlli interni effettuati per il rientro nei parametri di riferimento previsti dalla vigente normativa.